allora vediamo ci siamo eccoci qua bentornato su ritmi batteria allora giornata un po diversa dal solito oggi non pubblicherò un tutorial perché purtroppo nonostante avendo già preparato un programma non sono riuscito a registrare le parti perché il lavoro non me lo ha permesso sono spesso in giro per concerti laboratori adesso con i centri estivi sono abbastanza impegnato quindi purtroppo non ho avuto il tempo materiale ma la prossima settimana ne realizzerò appunto due proprio per riuscire a farmi perdonare vediamo noi oggi voglio parlarti di un metodo che personalmente a me ha aiutato molto per lavorare sul groove ok il metodo in questione è di gary ceffi è time functioning pattern qui trovi diversi esercizi appunto da i feedback quindi i groove semplici fino a tutte le combinazioni di cassa di rullante quindi ci sono tantissimi esercizi io te lo consiglio oltre a questo logicamente c'è diciamo il primo approccio al jazz quindi all'ostinato swing con le varie combinazioni di cassa di rullante molto interessante e ci sono tanti altri bellissimi esercizi io ho lavorato parecchio e spesso anzi ti dirò che certe cose le ho riprese adesso perché le avevo sottovalutate in questo metodo però mi stanno aiutando veramente tanto quindi io ti consiglio assolutamente di comprare questo metodo ok non ti dico di scaricarlo perché secondo me è una cosa da avere assolutamente fanne uso quotidiano ok anche magari con un semplice groove prendi alcune combinazioni e lavori ok questo ti aiuterà molto sulla tua indipendenza nel groove quindi lavorare con la cassa con una certa sicurezza anche qui puoi utilizzare diversi ostinati sul charleston quindi dal quarto ottavi e varie combinazioni la settimana prossima realizzerò appunto un video con un piccolo tutorial della prima parte quindi di questi esercizi che dicevo delle varie combinazioni da questo video spero che tu possa poi prendere diversi spunti cosa dire di altro griceff ha fatto una collana appunto di pattern allora il mio consiglio è vai se vuoi in un negozio di musica te li sfogli capisci un attimo che cosa c'è se ti può essere utile però secondo me sono dei metodi molto molto utili sia per il groove che per altri aspetti coordinazione indipendenza quindi fraseggi e quindi lavorerai anche sui fill varie combinazioni tra cassa rullante polirritmia quindi anche qua lavorare ci saranno appunto degli esercizi che ti faranno vedere tutte le divisioni possibili immaginabili allora questo video per oggi finisce qui mi dispiace non essere riuscito a fare appunto un tutorial io mi raccomando aspetto sempre i vostri commenti e magari qualche richiesta di un tutorial che io ho una lista infinita di lavoro da fare però sarei curioso di sentire e di capire cosa suonate voi quali sono i brani che che vi piace suonare e che richiedete che ascoltate ok ecco evitiamo la musica elettronica per piacere perché io sono della batteria vecchio stampo quindi un bel groove potente e tanta musica live cosa molto importante mi raccomando questo non mancherò di dirlo buon groove a tutti voi ciao e alla prossima